Partenza 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 Siamo al paesino di Tesero Tra poco dovremmo trovare il video del Passo Lavazier, Alba di Pampa e Agona Siamo al paesino di Tesero Grazie a tutti Ok, passate un punto e giriamo a destra e via Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno 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 ok primo passo passo pramadiccio quota 1.431 faccio 1.464 ma va bene adesso ci avviamo adesso passo lavazzè la nostra scuola è passata E' diverso, passo lavavate e passo qui. Ok, tiriamo a destra e ricominciamo la salita, carretina, due chilometri al basso, una ventina di minuti. Vediamo che siamo al 12 per cento. E' diverso. E' diverso. Ok, passo lavavate. E' diverso. 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 Grazie a tutti. Stiamo scollinando a Passo Clini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.